A nome del mio partito ho scritto una lettera al Presidente Schifani nella giornata di ieri in cui ho detto di accelerare l'iter parlamentare. Se in commissione non si approderà a nulla, si vada in aula e davanti al Paese chi affosserà la nuova legge elettorale, una riforma della legge elettorale se ne deve assumere la responsabilità perché ho l'impressione che a parole tutti la vogliono cambiare ma poi lavorino per non cambiarla.